E' vera che perde la calcio, il seno è più lui, ti uventa un dolore, ti chiede un lavoro, ti torno a spasso, ti ho visto un asso, ti hoaledo di vero, ti ti ha dato pensé, na 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 na, ma non c'è la sera, e 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 non c'è la sera, o sì l'oggio, o non ho vogliamo ce l'insieme, Mancia le spiegelo Ti chiedi a rimarare Ti sono danzare Ti amo l'amore Ti chiedi a pensare Ti sogna la gloria Ti spazzo di gloria Ciò che assalto è Alla scoperta 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 è la malattia, chi va a portapia, chi gioca a provare, il tutto sembrato, i sogni ai migliori, chi gioca alzardo, chi farà il terreno, aiutare l'uomo, aiutare l'uomo, allora, stanno per arrivare i fritti da mangiare, passate l'acqua perché sennò qua Allora, questa è un'anteprima mondiale, un'anteprima, no, non devi fare l'Italia 1, perché questa è Spezia TV, ok? Un applauso ragazzi a Spezia TV, anche senza musica, senza musica, aspetta, anche perché ci sono da annunciare tre cose, facciamo, aspetta, io vi metto di qua, Ma chi è che sta brindando? Questa è la quarta bottiglia che fate ragazzi, ma chi paga tutta... ma siamo sicuri che... Ah, non hai tu la carta di credito? Ok, di chi è il compleanno? Di nessuno, un applauso a loro che festeggiano anche se non è il compleanno Allora, fra poco arriveranno i fritti, mi hanno detto, lo diciamo, possiamo dirlo anche in televisione, a Spezia TV, come ti chiami? Valentina, ce l'ha fatta dire il suo nome, nonostante avesse il timore, come... Oddio, che succede adesso? Arriva quello con il microfono e rompe le balle, no? Non è vero Valentina, vuoi dire che stanno arrivando i fritti? Stanno arrivando i fritti Bravissima lei, applauso, grazie Grazie Allora, si canta insieme, eh? Cantiamo, vieni, 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 vieni Salute a casa poi, salute a casa che siamo in diretta Ti do un'esame 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 Vieni, ti do un'esame Ti do un'esame Ti do un'esame Ti do un'esame L'amore vettelo Se tu stai vien Oh, se, se... Ti do un'esame Ti do un'esame せ che indietta la televisione Come ti chiami? L'Alivetta Elisabetta E dalle nove Si stasetta Che indietta che indietti a ballare uddh Marco, grazie Allora, questo disco dovremmo dedicare a tutti quei ricordi che hanno finito una storia da poco e che vogliono in qualche modo andare a quel paese il loro ex per qualsiasi parte e sentire la voce, si canta stasera la voce, si canta stasera Buonasera, ben arrivata il papiro, come va? Tutto bene? Allora io vi do un po' seduti a questo tavolo, tutte donne a vedere, ma sono tutte donne composte. Allora, qua un po' ci si alza in piedi perché la nostra cena funziona così. Adesso non sono arrivati i fritti, sono arrivati i fritti? No, ancora no. Ok, allora qua un po' arrivati i fritti. Ragazzi, dopo i fritti scatta il secondo brindisi, chi c'è c'è, noi brindiamo comunque. Anche perché voglio cantare, va, 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 va. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.